Benvenuti nella rubrica che si tiene una volta al mese film a caso, il film di oggi è Strade Perdute, cominciamo! Film di David Lynch con Bill Pullman, Patricia Arquette, Balataz Ghetti, Robert Loggia, Robert Blake del 1997. Fuori dalla casa dei coniugi Frederick e Madison arriva una videocassetta di cui non si riesce a decifrare il contenuto, né tantomeno il mittente. Poco dopo ne arriva una seconda con un filmato che mostra la loro casa, compresi gli interni e i protagonisti, che a questo punto, capendo di essere spiati, chiedono aiuto alla polizia. La cosa degenera presto in un clima che si fa via via sempre più assurdo, caotico e inquietante, nulla andrà come previsto. Il protagonista, nella sequenza in cui dialoga con un poliziotto, ha la domanda sul come mai non avesse videocamere in casa che avrebbero potuto svelare verità e regalare preziose informazioni, risponde dicendo che preferisce dare fiducia alla sua memoria, piuttosto che a una macchina, ma vedendo poi come evolve la storia che ci impedisce di riacciuffare la realtà e il raziocinio sotterrate da allucinazioni e mondi di passaggio, la mente umana ci viene dimostrata non essere affidabile, ma neanche una cinepresa riuscirà a riordinare le nostre idee, perché tutto ciò che è filmato da Lynch e che quindi dovrebbe essere la registrazione della realtà dei fatti, è in preda ai deliri e ai sogni e mantiene nascosta la verità, che si conferma impossibile da affermare. In quello che possiamo definire come primo tempo, ci troviamo ad empatizzare sin da subito con il protagonista, anche quando visioni inquietanti e emicranie si inseriranno nel suo cervello. Lo spettatore possiede le stesse informazioni del personaggio principale, proprio come capita in alcune opere di Hitchcock, e la destabilizzazione partirà proprio da questo, perché il pubblico non riuscirà a comprendere se il motivo di dare avvenimenti risiede nell'oscuro intorno o proprio nel protagonista con cui sta empatizzando. Perciò tutto è incerto, si arriva a dubitare di qualsiasi cosa, il confine tra realtà e incubo diviene sempre più labile man mano che il tempo passa. La narrazione è spaccata a metà da un brusco cambio di rotta, da oro di intinto di soprannaturale si passa a un noir intinto di gag grottesche, e un particolare e irripetibile tipo di umorismo. L'assurdo ribaltamento a cui assistiamo provoca inevitabilmente sussulti e sbigottimento, ma al contempo innumerevoli risate. Può capitare persino di sghignazzare durante una sequenza di tutt'altro registro, pensando a quella precedente, in un cocktail perfetto di stili e suggestioni. La nuova storia in cui ci immergiamo dopo il cambio di rotta della narrazione ha come fonte di humor la caratterizzazione dei folli personaggi. Abbiamo il temibile quanto fuori controllo boss mafioso, che pesta a sangue un uomo esortandolo a ricordare il codice stradale, e i bizzarri e impacciati investigatori, che così come i poliziotti, sono stranulati dai vari avvenimenti, e commentano spontaneamente sbalorditi ciò a cui assistono, determinando l'irista del pubblico, che empatizza fortemente con queste figure, poiché come loro non sa dare una quadra alla caterva di razionalità che piovono sullo schermo. Tentare di dare una spiegazione sarà arduo, perché le stranezze e le logicità appaiono in ambe i due segmenti della narrazione, e tentare di collegarli fra loro è lo stesso un'operazione che sarà pressoché impossibile da portare a compimento. Uno dei pochi punti di contatto tra i due destini che il film ci racconta è il fatalismo tipico del noir, è una visione cupa e asfissiante dell'esistenza, dove l'amore è destinato ad andare in frantumi come svelano le emblematiche parole che la luciferina Dark Lady, che cambierà acconciatura nel corso dell'opera, sussurrerà all'orecchio del protagonista, dopo aver promesso un futuro al suo fianco, ovvero tu non mi avrai mai. Ed è il tradimento, il sentimento costante di sfiducia e paranoia, l'anello di congiunzione, in questo incubo ad occhi aperti, dove è difficile uscire indenni e senza timori dopo la visione. Da vedere assolutamente.